A voi allievi, la scuola militare dove vivete la vostra adolescenza ha il delicato compito di formarvi, condendo armonicamente l'etica, la disciplina e l'educazione, per farvi acquisire dei modelli di comportamento, delle competenze, delle conoscenze che saranno fondamentali per il vostro futuro. Vi siete confrontati e cimentati con una realtà quotidiana impegnativa e faticosa, ma anche stimolante e vivida che vi preparerà al successo, ben figurando ovunque andrete dopo come uomini e donne capaci, lavoriosi e onesti. Reparto a te! Reparto presentato a... Do ora lettura della formula del giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di addendere con disciplina e d'onore a tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle liberi istituzioni. Allievi del Corso Lira, lo giurate voi? Lo giuro! 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 Fum note! Giuro! Giuro! Veneto! Giuro! E' una delle cose più belle di questi ragazzi che ora sono al corso l'ira e l'amicizia che loro stanno, così, l'amicizia che si sta creando tra di loro vi rimarrà per tutta la vita. Questa è una delle cose più belle e la fortuna che loro hanno frequentando un istituto come questo.